Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Farm Simulator 22 Oggi siamo qua con la trebbia sulle del sorgo Buon Natale Ci hanno assolutamente un stramco a New Holland Treppiremo il sorgo Ok, voglio sto qui Voglio che è difficile Grazie Ora abbiamo già un corno distante E qua penso che è un po' più piccolo Non so che ci rientra anche la prima di spingiare Vedete questo è il piano alto E poi ci rientra anche il centro E quindi è meglio di poterlo alto Ma poi L'altro troppo Ci sono molti E quindi si spingiare anche Lo scopo E quindi cos'è Come Tagliarlo Ma tutto sull'olare Così mettiamo solo il centro E poi E quindi Per il centro E quindi E poi E poi E poi E poi Lo ripristino Lo ripristino E prendo il carrello Però ora Devo togliere La pelle Metto Il tempo normale E poi Fa buio E non ci vediamo niente E quindi Manderò Questo qua A farlo Un'altra Poi io dormo A farlo Allora Crea lavoro Vai Qui Campo 46 E' pronto Vai Ora Andiamo a tornare Spingiamo Torniamo fino alle 9 Torniamo fino alle 9 Aspettate che prima basso il volume Che è meglio Ok Ok volume veicolo 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 volume veicolo